una volta il maniero rifatto in stile antico sergeva su una collina boscosa è circondato da alti alberi cupi e l'immenso parco si apre su profonde foreste e sui paesini circostanti una vasca di pietra scavata qualche metro dalla facciata vi fanno il bagno delle dame marmore altre vasche si succedono l'una all'altra fino ai piedi della collinetta e su di loro una sorgente chiusa in condotta fa discendere le sue cascatelle dal castello vezzoso come una donna fatale ormai anziana sino alle grotte incrostate di conchiglie in cui si sono assopiti amori d'altri tempi tutto nell'antica proprietà ha conservato la fisionomia del passato tutto pare parlare ancora di vecchie usanze di costumi passati di galanterie ad una volta e della delicata eleganza propria dei nostri bisnonni in un salottino stile luigi quindici dalle pareti affrescate con pastori che amoreggiano con le pastorelle di dame in guardia infante vagheggini tutti riccioluti una vecchissima dama che pare morta da quanto è immobile è quasi sdraiata in un'enorme poltrona e lascia penzolare ai due lati ossute manine mummificate il suo sguardo appannato si perde lontano nella campagna come se volesse seguire attraverso il parco le visioni della sua giovinezza dalla finestra aperta arriva ogni tanto un soffio d'aria era e caudori d'erba e profumo di fiori i suoi capelli candidi intorno alla fronte rugosa ne sono scompigliati come i vecchi ricordi della mente accanto a lei su uno sgabello rivestito in tappezzeria c'è una ragazza dai lunghi capelli biondi riuniti a treccia dietro la schiena sta ricamando una tovaglia d'altare i suoi occhi sognano mentre le agili dita lavorano si è abbandonata a una fantasticheria ma la nonna si è girata verso di lei le dice berte leggemi qualcosa dai giornali voglio sapere quel che sta succedendo nel mondo la ragazza prese un giornale lo scorse con lo sguardo c'è tanta politica nonna l'assalto sì tesoro non ci sono storie passionali è forse morta la galanteria in francia non si sente più parlare come una volta di rapimenti e di avventure la ragazza cercò lungamente ecco disse hanno messo come titolo un dramma d'amore la vecchia sorrise tra le rughe disse leggimelo e berte cominciò era un episodio che si concludeva col vetriolo una donna per vendetta contro l'amante del marito le aveva ostionato gli occhi e il volto era uscita dal tribunale assolta come se fosse innocente e la folla l'aveva applaudita la vecchia ci agitava nella poltrone e ripeteva è tremendo tremendo trovami qualche altra cosa tesoro berte riprese la ricerca e sempre nella cronaca giudiziaria lesse dromma tenebroso un'anziana commessa di negozio era finita tra le braccia ad un giovanotto poi per vendicarsi di quell'amante troppo volubile gli aveva sparato un colpo di rivoltella il poveraccio sarebbe rimasto storpio i giurati tutta gente per bene parteggiando per l'amore non legalizzato dell'assassina l'avevano assolta con tutti gli onori questa volta l'ava si ribellò e disse con voce tremante ma siete matti oggigiorno proprio matti il buon dio vi ha dato l'amore l'unico sollievo di questa vita l'uomo vi ha aggiunto la galanteria l'unica distrazione delle donne ed ecco che ci mescolate il vetriolo la rivoltella sarebbe come mettere fango in una buona bottiglia di vino spagnolo berthe sembrava non capisse l'indignazione dell'ava ma non quella donna si è vendicata pensa un po' era sposata e il marito la tradiva la vecchia sobbalzò che razza di idee avete in testa voi altre ragazze moderne berthe rispose il matrimonio è sacro l'ava sentì che il suo cuore nato nel secolo della galanteria aveva accelerato i battiti l'amore è sacro disse sta a sentire figliuola quel che ti dice è una vecchia che ha veduto tre generazioni e l'assa lunga molto lunga sugli uomini e sulle donne matrimonio e amore sono cose differenti ci si sposa per fondare una famiglia e si forma una famiglia per costruire la società la società non può fare a meno del matrimonio è una catena ogni famiglia costituisce un anello e per tenere uniti questi anelli bisogna cercare metalli simili al momento di sposarsi si fa il calcolo delle convenienze si assommano i patrimoni si mettono insieme persone dello stesso ceto e si lavora per un interesse comune e cioè i soldi e i figli ci si sposa ufficialmente una sola volta ragazzina perché così esige il mondo ma nella vita possiamo amare almeno 20 volte è la natura che ci ha fatte così il matrimonio capisci è una legge mentre l'amore è un istinto che ci sospinge ora qua ora là era necessario fare delle leggi che si opponessero agli istinti ma gli istinti sono sempre i più forti e non dobbiamo porgli soverchi ad esistenza perché vengono da dio al contrario delle leggi che vengono dagli uomini se non dessimo un po di profumo alla vita con l'amore con quanto più amore è possibile tesoro mio così come mettiamo un po di zucchero nelle medicine dei bambini nessuno vorrebbe accettarla così com'è berthe sterrefatta sgranava gli occhioni mormorò o nonna nonna si può amare una sola volta la valzò al cielo le mani che tremavano come per invocare ancora il defunto dio della galanteria poi esclamò indignata che razza di gente volgare plebea siete diventati dalla rivoluzione in poi la gente non si conosce più siete stati capaci di trovare paroloni per ogni minima azione di mettere noiosi doveri in ogni aspetto della vita credete all'eguaglianza e alla passione eterna c'è chi ha scritto versi per sostenere che d'amore si può morire all'epoca mia si scrivevano versi per insegnare agli uomini ad amare tutte le donne quanto a noi se un gentiluomo ci piaceva ragazzina mia gli mandavamo un servitorello e se ci veniva un nuovo capriccio facevamo presto a dare il ben servito all'ultimo amante oppure li tenevamo tutti e due la vecchia aveva un sorriso acre nei suoi occhi grigi brillava la malizia la malizia spiritosa e scettica di coloro che non si credevano fatti della stessa pasta della gente comune e che vivevano come esseri superiori non soggetti all'opinione pubblica la giovane pallidissima balbettò da quei tempi le donne non avevano onore la nonna smise di sorridere nel suo animo era rimasta una traccia dell'ironia di Voltaire c'era anche un po' dell'ardente filosofia di Saint-Jacques non avevano onore perché si amava perché si aveva il coraggio di dirlo e persino di farsene un vanto bambina mia se una di noi che eravamo tra le dame più in vista di tutta la Francia si fosse trovata senza amante avrebbe fatto ridere tutta la corte quelle che volevano vivere in modo diverso non dovevano far altro che entrare in convento e voi credete oggi che i vostri mariti vi vorranno bene per tutta la vita come se fosse davvero possibile ti ripeto che il matrimonio è necessario per far sopravvivere la società ma non appartiene alla nostra natura capito? l'unica cosa buona che c'è nella vita è l'amore e poiché lo capite male o lo sciupate lo trasferite in una cosa solenne come un sacramento oppure in una cosa che si può comperare come un vestito e dove ne afferrò tra le sue mani tremanti quelle rugose della vecchia per piazzere nonnina stai zitta e in ginocchio con le lacrime agli occhi domandava al cielo una grande passione un'unica passione eterna secondo quanto sognano i poeti moderni intanto la nonna ancora imbevuta dell'incantevole ragione pratica che i filosofi galanti profusero nel secolo diciottesimo murmurava baciandola in fretta sta attenta piccola se credi a simili sciocchezze sarai destinata ad essere molto infelice grazie a tutti 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 grazie a tutti